Alle battute finali la 45esima stagione di concerti organizzata al Teatro Savoia di Campobasso dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis. Ultimi cinque appuntamenti fino al 29 marzo, sabato, alle 18.30 si esibirà il Quartetto Latinoamericano. Una formazione di prestigio mondiale, basti pensare ai 70 compad disc che hanno registrato e quindi proporranno un programma molto bello, una ricognizione sulla musica latinoamericana. Sabato 8 marzo invece è concerto di spessore. Avremo veramente un piacere grandissimo nell'ospitare Yuri Bashmet, considerato da tutti come uno dei più grandi violisti del mondo ma addirittura di tutti i tempi con i solisti di Mosca. Poi gli ultimi tre concerti, il 15, il 22 e gran finale il 29 marzo appunto. Ci sarà il concerto di una giovana e molto brava violoncellista, Leila Shirvani, insieme a un chitarrista Davide Dienno che faranno un programma molto vivace e interessante. Prima di questi due concerti ci sarà l'orchestra sinfonica abruzzese che concluderà un ciclo molto bello con un programma dedicato a Mozart e la vincitrice di un concorso pianistico importantissimo, il concorso Geza Anda, la pianista che sta facendo grande successo in tutto il mondo, Varvara. Piero Niro, direttore artistico della manifestazione, ha da poco ricevuto un importante riconoscimento. Farà parte della direzione artistica e culturale del Comitato Nazionale Italiano Musica. Questo per me è un bel risultato ma soprattutto è un risultato per quello che tutta l'associazione in tutti e 45 gli anni in cui ha lavorato ha testimoniato. Quindi noi come città piccola, di una regione piccola, siamo entrati in un contesto in cui possiamo dare un contributo anche significativo alla proiezione e alla programmazione musicale in Italia in senso generale.